Una risposta incongruente che soddisfa solo in minima parte le richieste del bando per l'affidamento della gestione dell'accoglienza diffusa dei migranti in città. Così il prefetto Valerio Valenti sull'unica offerta prevenuta agli uffici di piazza unità è aperta oggi, quella della ditta Desi della provincia di Salerno, che ha dato la sua disponibilità per la gestione di soli dieci posti a fronte dei 700 richiesti dalla prefettura. Si tratta dunque ancora una volta di un nulla di fatto. La commissione incaricata, precisa Valenti, valuterà ora se aggiudicare l'incarico alla ditta, ma considerato il numero esiguo di posti richiesti sarà comunque necessario bandire una nuova procedura, eventualmente per la copertura di 690 posti. Nel frattempo rimane la gestione in proroga del servizio a Caritas e Consorzio Italiano Solidarietà ICS. Il bando, scaduto ieri, era stato aperto in autunno per giungere alla conclusione di un accordo quadro di durata biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente per un fabbisogno complessivo appunto di 700 posti. La copertura finanziaria stimata era di circa 10 milioni 900 mila euro.